I carabinieri del comando provinciale di Enne e Catania, dopo un'articolare attività di indagine da tempo effettuata sotto il coordinamento della direzione distrittuale antimafia della procura distrittuale di Caltanissetta, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti dei pluri pregiudicati catanesi, il 44enne Carmelo Pantalena e Sebastiano Sudano, 38enne di Raddusa. I destinatari della misura cautelare erano già stati sottoposti ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura nissena lo scorso 24 luglio, poiché ritenuti responsabili del delitto di estorsione aggravata e continuata in concorso con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione tipo mafioso Cosa Nostra e specificatamente il clan Mazzei di Catania. L'indagine nata nel mese di giugno 2017 e condotta dai carabinieri della compagnia di Ricosia ha consentito di accertare che un allevatore di ceramica operava nel territorio ricadente nel parco delle Brodi aveva ricevuto frequenti minacce e pressioni affinché pagasse una somma a titolo estorsivo da corrispondere o in denaro o in animali con la minaccia che qualora non avesse consentito a tale richiesta avrebbe ricevuto gravi ritorsioni. L'odierna misura cautelare notificata al Pantalene e a Sudano presso il carcere di Bicocca di Catania rappresenta l'epilogo dell'operazione.